Presidente, un gemellaggio fra l'Ordine dei Medici di Palermo e quello di Siviglia. Quali sono i punti che vi tengono insieme e perché la necessità di questo incontro? Oggi si firma un gemellaggio da cui però attività nasce già da parecchio tempo, da circa due anni. Gli Ordini dei Medici nazionali italiani e spagnoli lavorano da tempo, già da lungo tempo, per riconoscimento di alcune attività che ancora in Europa non sono perfettamente riconosciute. Faccio un esempio particolare. Se un medico spagnolo frequenta un convegno accreditato in Europa, riceve un certo numero di crediti e ha anche una qualifica diversa, se allo stesso convegno partecipa un medico italiano si ha perlomeno un quinto dei crediti. Per quale motivo questo? La Spagna sono stati molto più bravi e hanno portato avanti degli accordi con l'Unione Europea e adesso noi ci accingiamo a portare avanti come ordini italiani. Quindi questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio, che è quello più importante, Siviglia è al meridione della Spagna, Palermo è al meridione d'Italia, numero di cittadini quasi gli stessi e altrettanto numero di iscritti medici. Ebbene, noi viviamo insieme in un mondo in cui la sanità non è come quella del nord. Noi abbiamo delle eccellenze, abbiamo delle situazioni ottime, meravigliose, però nell'immaginario collettivo non tutto funziona bene. Allora i medici vogliamo avere un ruolo importante e credo che istituzionalmente sia l'Ordine dei Medici di Palermo che l'Ordine di Siviglia abbiamo da poter dire parecchie cose a chi li vuol sentire. Questa iniziativa di collaborazione tra l'Ordine dei Medici della città di Palermo e quella della città spagnola di Siviglia conferma quello che è l'indirizzo oramai pluridecennale della carta europea che proprio anche in materia di salute lancia prospettive orientate alla più fattiva collaborazione. E questo non solo nell'ambito della didattica. Io credo che questo modello sia particolarmente opportuno perché mette in simbiosi le attività che sono riferite a città del meridione d'Italia e del meridione di Spagna che hanno una omogenea popolazione che sostanzialmente ricoprono un interesse economico equiparato a livello delle rispettive nazioni, la quarta città di Spagna, la quinta città d'Italia e in particolare sono collegate da incroci storici molto particolari sicuramente la formazione della plurisecolare dominazione di tipo islamico che accomuna la città di Palermo e quella di Siviglia ma anche il rimando alla seconda guerra punica e poi durante il periodo della dominazione spagnola moltissima delle famiglie principesche, diciamo con termolo abusato baronali aveva una provenienza proprio dal distretto di Siviglia la collaborazione odierna invece in materia di sanità che è quello che lei mi chiedeva offre l'opportunità di un confronto diretto tra modelli e soprattutto tra metodologie un interscambio che non può che essere assolutamente favorevole uno scambio che è orientato non solo però alla didattica ma che prospetta ricadute pratiche in senso di ricerca e soprattutto tutte quelle analisi anche di tipo epidemiologico sulle quali si fondano tutte le strategie di ogni paese si pone il tema rispetto alla centralità dei popoli del Mediterraneo in un tema che è assolutamente sensibile che è quello della salute dei cittadini lo si fa ponendo al centro la questione sanitaria e lo si realizza attraverso un protocollo di intesa che in questo caso vede l'ordine dei medici della provincia di Palermo a braccetto con l'ordine dei medici di Siviglia ecco questo è un approccio che assolutamente piace al Parlamento regionale ed è questa la ragione per cui l'Assemblea regionale siciliana in questo caso da me rappresentata nel ruolo dell'ufficio di presidenza decide di continuare a credere in questa esperienza mi piace che il tema venga posto in termini di questione meridionale e soprattutto mi piace che venga rilanciato nella connotazione positiva che è quella che vogliamo dare a questa giornata grazie a tutti